Lo spirito del male semina guerre. Gelosie, invidie, lotte, chiacchiere sono cose che distruggono la pace e allontanano l'unità. Nella messa celebrata a Santa Marta Papa Francesco è tornato a parlare del mistero della Chiesa, corpo di Cristo. In un mondo senza dolcezza, dove troppo spesso si urla gli uni contro gli altri e si sparla di tutti, i cristiani sono chiamati a custodire l'unità dello spirito, diffondendo il vincolo della pace, che cresce con l'umiltà, con il sopportarsi l'uno con l'altro e con la magnanimità. Prima, umiltà. Secondo, dolcezza. Con questo, sopportarsi a vicenda. E terzo, magnanimità. Cuore grande, cuore largo. Che ha capacità per tutti e non condanna, non si rimpicolisce nelle piccolezze. Che ha detto questo, che ho sentito questo, che ho detto. Largo il cuore. C'è posto per tutti. Questo fa il vincolo della pace. Questo è il modo degno di comportarci per fare il vincolo della pace, che è creatore di unità. Creatore di unità è lo Spirito Santo, ma favorisce, prepara la creazione dell'unità. Grazie. 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 Grazie.